Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, di cosa parliamo oggi? Parliamo delle batterie, questo vi segnalo che è il secondo video sulle batterie e se non avete visto il primo vi consiglio vivamente di farlo perché tratta delle batterie a carattere generale, vi da qualche nozione sulle tipologie di batterie che esistono, parliamo ovviamente di batteria a litio e quindi ragazzi mi raccomando non vi perdete il primo video, non guardate prima questo dell'altro perché chiaramente potreste non arrivare a comprendere tutti i concetti che esprimerò in questo video, quindi vi lascio un link in alto a destra, guardate il video e ora iniziamo! Avrete sicuramente sentito dire che le batterie a lipo che utilizziamo nei nostri automodelli elettrici ma anche nitro perché ovviamente serve la batteria di alimentazione per ricevente servocomandi sono pericolose e voi vi aspettate da me che io vi dica no non è vero non sono pericolose, cioè no ragazzi sono pericolose, sono numerosissimi i casi di incendio provocato dallo scoppio di batterie lipo quindi questo video è super utile perché vi insegnerò come diminuire drasticamente la loro pericolosità semplicemente seguendo le regole, perché le batterie lipo sono sì pericolose ma solo se non si seguono le regole per trattarle, quindi uno dei processi fondamentali per trattare bene le vostre batterie è il processo di ricarica, prima però di parlare del processo di ricarica è necessario segnalarvi quali sono le cause che possano far incendiare una batteria lipo, se le batterie si surriscaldano tendono a gonfiarsi e la pressione all'interno delle celle sale, l'involucro delle batterie si può rompere e il contenuto della batteria entra a contatto con l'aria, il litio però ha la proprietà che a contatto con acqua e umidità si infiamma, reagisce infiammandosi ragazzi, quindi diventano molto pericolose. Quali sono quindi i motivi per cui le batterie possono infiammarsi? Sicuramente il primo motivo è una ricarica sbagliata, più che sbagliata fuori dai range che quella determinata batteria può sopportare, sicuramente se caricate a 1C non succederà praticamente quasi mai niente, a meno che il caricabatterie non abbia problemi e non riesca a fermare il processo di ricarica una volta raggiunto il 100%. Un'altra causa è sicuramente il cortocircuito, quindi l'inversione di polarità può provocare un innalzamento esagerato delle temperature e quindi come detto in precedenza un aumento della pressione e le celle chiaramente possono prendere fuoco. Abbiamo detto che un processo di carica troppo veloce che la batteria non può reggere può provocare l'incendio, ok? ma anche un processo di scarica troppo veloce. La corrente scorre all'interno della resistenza della batteria e genera calore, più velocemente la corrente scorre e più questo calore aumenta. Questo viene denominato effetto Joule ed è esponenziale ragazzi, ricordate quindi il doppio della velocità di scorrimento della corrente genera 4 volte più calore. Ovviamente ragazzi anche i danni esterni possono generare l'esplosione della batteria, infatti se per qualunque ragione il sacco delle vostre celle lipo viene forato nel 90% dei casi può generarsi un incendio perché appunto il litio fuoriesce e viene a contatto con l'aria. Ecco perché le batterie da competizione omologate per automodelli hanno tutte l'arcase, è praticamente regolamentare che le batterie siano contenute in un involucro di plastica cosicché siano molto più resistenti agli urti. Parliamo adesso del processo di ricarica, come sapete ragazzi la ricarica è la fase più delicata per una batteria e quindi è indispensabile che prestiate la massima attenzione durante questo processo. Un consiglio fondamentale è usare una lipo bag ragazzi, sono in commercio, sono economiche e vi salveranno in caso di problematiche con incendi. Le batterie lipo hanno fatto passi da gigante e ci sono alcune batterie che dichiarano di poter essere ricaricate addirittura a 10C. Ovviamente ragazzi più velocemente caricherete, come vi ho detto in precedenza, più ci sarà il rischio grandissimo che le batterie possano danneggiarsi. Quindi come vi ho detto in precedenza se non sapete caratteristiche della batteria caricate a 1C e problemi non ce ne saranno. Ragazzi quando parlo di 1C vuol dire caricare con la stessa corrente della capacità della batteria. Quindi ad esempio una batteria da 8000 la caricherò a 8A, una batteria da 2600 nel caso di quelle della ricevente del vostro automodello Nitro la caricherò a 2,6A e così via. Se caricate la batteria a 1C e questa è totalmente scarica il processo durerà un'ora. Se caricate a 2C, quindi al doppio della corrente rispetto alla capacità della batteria, quindi ad esempio tornando l'esempio di prima una batteria da 8000 la caricata a 16A ci vorrà mezz'ora e così via. Chiaramente questa cosa non è del tutto vera perché i caricabatterie moderni gestiscono il processo di ricarica. Quindi se io imposto ad esempio 8A per una batteria da 8000 non mandano 8A dal primo momento fino all'ultimo momento, ma andranno a scalare. Quindi quando la batteria sarà più carica diminuiranno gli Ampere durante il processo di ricarica, quindi ci vorrà sempre più del tempo previsto. Chiaramente però voi non partirete mai dalla batteria a corrente zero, anche perché una cosa importante da tenere in considerazione è che un altro modo per danneggiare le vostre batterie lipo e portarle sotto una certa tensione. Cioè paradossalmente quando le batterie sono sotto una certa percentuale di ricarica possono esplodere. Quindi ragazzi il consiglio è non scendere mai sotto il 25 30 per cento di carica della batteria. Un altro processo fondamentale per la sicurezza ma anche per la durata e l'efficienza delle vostre batterie è fare uno storage quando tornate a casa. Perché è importante il processo storage? Perché le batterie lipo tendono a deteriorarsi con la temperatura e con la tensione accumulata al loro interno. Quindi lasciare le batterie cariche contribuirà ad un deterioramento esagerato. E infatti il consiglio che vi do è quello di caricare le batterie il giorno prima e il giorno stesso in cui andrete ad utilizzarle. Ma che ci dice la corretta tensione di storage per la batteria? Ragazzi i caricabatterie moderni hanno integrata la funzione storage. Cercatela perché sicuramente ce l'avrete ed è una funzione fondamentale perché è lei che vi porta in base al tipo di batteria che state utilizzando ad una percentuale di carica corretta per evitare il deterioramento della batteria. Chiaramente questo processo può essere molto veloce o molto lento. In base a cosa? In base alla percentuale di carica della batteria. Quindi se la percentuale di carica è al di sotto del valore di storage questo processo sarà velocissimo. Mentre ragazzi se mettete in storage una batteria carica che non avete utilizzato durante i vostri test o le vostre gare ci metterà veramente veramente tantissimo tempo per arrivare alla tensione di storage. Per evitare di perdere intera giornata a fare storage delle batterie vi consiglio di acquistare uno scarica batterie perché chiaramente vi porterà ad un valore inferiore a quello di storage e renderà il processo di storage molto più veloce. Quindi abbiamo terminato un'altra parte dei video sulle batterie, probabilmente ce ne saranno ancora altri perché l'argomento è molto vasto. Se avete voi delle domande ovviamente fatemele nei commenti e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!